L'estate entra nel vivo e come di consueto nel mese di agosto si registrano i massicci esodi estivi che porteranno ad un aumento significativo del traffico veicolare. L'automobile si sa rimane il mezzo preferito dagli italiani per spostarsi, quindi non sorprende che si possano creare code infinite in autostrada durante il primo vero esodo estivo. In questo fine settimana, anche nel tratto abruzzese dell'A14, è previsto traffico in aumento. Secondo l'Osservatorio Viabilità Italiana, il giorno da Bollino Nero e Oggide è prevista una grande quantità di auto sulle strade da causare ingorghe e code, mentre domani domenica 8 agosto invece da Bollino Rosso, cioè con traffico intenso. Sono decine di migliaia gli italiani che si riverseranno in questi due giorni su strade to strade diretti verso le principali destinazioni di vacanza. Più degli altri anni a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposteranno all'interno del paese, contribuendo a un incremento del traffico. Gli spostamenti saranno all'interno dell'Italia, in particolare lungo la direttrice Nord-Sud, verso le località di mare e di montagna. La Polizia di Stato ha predisposto una serie di utili consigli da seguire per affrontare un viaggio in tutta sicurezza. È bene controllare il proprio veicolo in modo scrupoloso verificando la pressione degli pneumatici, i livelli di olio e acqua, il corretto funzionamento delle luci e i documenti, assicurazione e libretto di circolazione. Una volta la guida si raccomanda di non utilizzare lo smartphone, di mantenere la distanza in sicurezza e utilizzare in modo corretto le corsie. In caso di incidente è bene chiamare in modo tempestivo il numero unico 112, cercando di essere il più esaustivi possibili.